Superato l'ultimo ostacolo che rallentava le procedure tecniche alla realizzazione del progetto di riqualificazione del Teatro Romano di Teramo, la Regione Abruzzo ha finalmente autorizzato l'abbattimento della particella di propria pertinenza del Palazzo Adamoli. Questo consentirà di entrare nella fase conclusiva del progetto definitivo e quindi procedere all'indizione della gara del primo stralcio dei lavori. Siamo sempre legati a ciò che ci dice il contratto degli appalti e di conseguenza una volta ricevuto il progetto, le osservazioni, le contradduzioni effettuate dall'architetto Bellomo sapremo comunicare il cronoprogramma certo e definitivo per la prima messa in opera, quindi il primo cantiere, in modo tale che tutti quanti i cittadini possano avere contezza di quello che si sta lavorando perché io mi rendo conto che il cittadino finché non ha contezza e quindi non vede il fermento pensa che ci possa essere uno stallo. In realtà non è così perché c'è tutta una parte amministrativa e burocratica che non viene messa a conoscenza del cittadino ma che comunque è fondamentale e propedeutica. Noi speriamo di andare a gara entro quest'anno, quindi il tempo c'è. Ovviamente anche il Covid purtroppo ha ritardato un cronoprogramma interno nostro che avevamo ma sicuramente sono fiduciosa e entro il 2021 incomincieremo a vedere qualcosa. La riqualificazione del Teatro Romano di Teramo attesa da oltre 30 anni permetterà al Comune di sistemare anche l'area circostante oggi fortemente degradata.